Distensioni, su panca, orizzontale. Suppini, su panca orizzontale, glutei a contatto con la panca, piedi a terra. Afferrare il bilanciere, mani in pronazione, con passo superiore, alla larghezza delle spalle. Inspirare, e portare il bilanciere, sin quasi a toccare il petto. Controllando il movimento. Espirando, distendere le braccia. Se soffrite di lombalgia, oppure volete isolare il lavoro sui pettorali, consigliamo di eseguire la distensione, con cosce e ginocchia flesse. Grazie. 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 Grazie.